Regione Abruzzo, Adso e Comune di Pescara hanno sottoscritto questa mattina l'accordo di programma che avvia l'iter del progetto di riqualificazione dell'ex Ferrotel di Pescara. Il documento consentirà di partecipare ad un avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione con il quale dovrebbe essere finanziato metà dell'importo totale dei lavori che ammontano a circa 5 milioni di euro. L'accordo prevede che il Comune conceda la gestione per 30 anni dello stabile all'azienda per il diritto allo studio universitario, mentre la Regione finanzierà la progettazione della ristrutturazione per circa 70 mila euro. La casa dello studente dell'ex Ferrotel nel pieno centro di Pescara sarà la seconda casa dello studente del capologo adriatico perché a breve verrà inaugurata l'ex casa Ater di Via Croce con 65 posti. L'obiettivo è garantire il diritto allo studio dei 26 mila studenti dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara e recuperare uno stabile oggi lasciato nel degrado all'interno del piano complessivo di riqualificazione dell'area di risulta. Questo progetto ci convince, ci piace e parteciperemo con grande entusiasmo a questo bando ministeriale insieme a due immobili messi a disposizione da Chieti, quindi dalla città di Chieti. Quindi con questa operazione cerchiamo di mirare, di puntare appunto di centrare i due obiettivi, l'ex Ferrotel a Pescara e due immobili nel centro di Chieti, anch'essi abbandonati in una zona seppur centrale ma purtroppo di periferia perché non praticata, non vissuta dai cittadini.